Cari cittadini e cari cittadini italiani, volevo fare questo breve video riguardo al referendum del 4 dicembre, ovvero tra pochi giorni, e volevo soprattutto fare questo video per chiunque tra di voi avesse ancora qualche dubbio riguardo a votare il sì o votare il no. Allora, io vivo all'estero, in Germania, e come molti altri connazionali nostri che vivono all'estero, ho ricevuto dall'ambasciata, io e la mia ragazza, che viviamo insieme, abbiamo ricevuto due lettere, due buste, contenenti tutto il necessario per votare, e inoltre la mia ragazza, non io, ma la mia ragazza, ha ricevuto una lettera dal nostro carissimo Matteo Renzi, ok? E questa lettera, ecco, poi la mia ragazza l'ha sbrindellata e io per fare un video insieme a lei l'ho rimesso insieme, con lo scotch. Questa lettera praticamente è, diciamo, una spiegazione riguardo al referendum, praticamente cosa si va a votare, perché, votare sì, votare no. Ecco, una persona normale adesso dice, vabbè, cazzo, molto gentile il signor Renzi, che comunque manda ai cittadini che vivono all'estero anche una lettera con su scritto le spiegazioni riguardo a questo referendum, no? Bene, non è proprio così, nel senso che, ok, ci sono queste spiegazioni, è tutto, ma diciamo che tendono più da un lato rispetto che dall'altro. Nel senso che, ovviamente, ci sono sottolineate delle frasi del tipo questa riforma riduce finalmente poltrone costi alla politica, elimina enti inutili, mette fine all'assurda guerra tra enti pubblici, tutte queste robe qua, bellissime, sottolineate, o più che altro, di color rosso, e poi, ovviamente, ora dipende dal voto dei cittadini, tutte queste robe qua, e tutto, presumo che è stato scritto da Renzi, o comunque scritto da qualcuno, incaricato da Renzi, e Renzi probabilmente aveva sta faccia mentre firmava ste carte qua, insieme a Obama qua, in parte, però tutta sta roba qua, uno dice, vabbè, chi se ne frega, prendo sto foglio, lo butto via, invece no, cioè questa qua è pura propaganda, in quanto c'è crociato proprio di votare sì, cioè basta, cioè questa qua, non è che mi arriva la lettera con scritto vota sì, e poi una con vota no, no, mi arriva solo la lettera del signor Renzi con scritto vota sì, con crociato sì, quindi magari un cittadino che, ecco, che è un po' anziano, che comunque, nelle televisioni estere non è che fanno vedere tanto dell'Italia, magari, magari, non so, si trova ad avere con qualche dubbio, magari non sa neanche usare bene internet, e grazie a questa lettera, leggendola così com'è, dice, cazzo che figata, cioè nel senso, si elimina questo, meno soldi ai politici, di qua e di là, ma in realtà ovviamente sono tutte balle, e questo foglio qua, che ti arriva con so scritto di votare sì, penso che sia abbastanza una prova, di quante tutte ste balle qua siano, appunto, balle, ovvero dobbiamo fare di più tutti insieme, ma dobbiamo continuare a migliorarci, come le vostre storie ci insegnano, e tutte ste bellissime frasi qua, marcate di rosso, superiamo finalmente il biceralismo paritario, superiamo il doppio voto di fiducia al governo, e tutte ste cose qua, insomma, un paese dalla politica debole, chissà perché, con gente così, che politica vuoi avere? Vabbè, è nulla, questo qua era il mio video, e al signor Renzi, da bravo bergamasco, volevo dirgli una cosa in bergamasco, al signor Renzi, dalla prossima volta, la sua letterina, piccata la perocchio, ciao!